che era un capitano dei bersaglieri, si chiamava Giuseppe La Rosa durante una missione in Afghanistan cadde una granata cadde, fu lanciata una granata dentro il lince, il mezzo blindato nel quale lui viaggiava chiunque abbia fatto il militare sa che quando si lancia la granata fai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e poi fa boom quando ti entra nel lince ti sono rimasti 3 da contare, 1, 2, 3, in quei 3 secondi lui si è lanciato sopra questa granata e facendo scudo col suo corpo è morto ma ha salvato tutti gli altri suoi ragazzi, quelli a cui le madri avevano affidato a lui la loro vita non è una canzone triste in realtà, quindi non vi preoccupate volevo soltanto dire che il capitano Giuseppe La Rosa è medaglia d'oro al valore militare col grado di maggiore, grazie le notti sull'altana e qualche ferragosto passato ad espugnare per finta un avamposto lezioni all'accademia studiando anche l'inglese e campi in mezzo al fango durati più di un mese e se due esiste ed io ci credo lo trovi tutto nelle mie tre stelle che anch'io come i marò non le ho sulla divisa incise sulla pelle e riportarli indietro e tutti vivi e tutti interi il mio comandamento il mio comandamento giurato fino a ieri a tutti i miei ragazzi dicevo questa cosa sarà pericoloso ma vi riporto a casa e se due esiste ed io ci credo lo trovi tutto nelle mie tre stelle che pure lui lo vedi a pezzettini volati in aria come la mia pelle bruciata e slosa lì dentro a quel blizzato nel quale ho fatto scudo coprendo la granata dovevo farlo perché ero il capitano per mantenere a loro la mia parola data e sono tornati indietro eppure se non c'ero io li ho mandati a casa e Dio lo sa e sono fiero grazie a tutti